ciao ragazze benvenute e ebbene sì sono arrabbiata arrabbiatissima voi non mi avete mai visto arrabbiata ma questa volta lo sono davvero tantissimo arrabbiata con la mia rdz che cos'è un rdz questo lo dico per chi non è inserito nel mondo avon la rdz è la responsabile di zona cioè quella che retiene il gruppo che dà le informazioni che ci sprona che ci incita che ci dà gli obiettivi insomma quella che è la responsabile di tutte noi nella zona insomma sono lo ripeto arrabbiata con lei e adesso vi spiego il perché e poi ditemi se non ho ragione ve lo sapete a me non piace fare polemiche ma stavolta ci vuole allora stamattina ci siamo incontrate dovevamo parlare di lavoro ovviamente la mia responsabile di zona ci siamo prese il caffè in piedi perché siamo in zona arancione poi siamo andate in un posto con delle panchine tipo io in una lì una lì abbiamo detto ci stiamo in distanza di sicurezza possiamo parlare ci avviciniamo a queste panchine stiamo per sederci e lei mi dice no aspetta prima facciamoci un un selfie mentre ti do il regalo regalo perché cioè natale è passato un regalo me l'aveva già fatto perché avevo avuto un bel fatturato allora le dico scusa che regalo mi ha detto ma com'è che regalo sei la seconda di zona tra le prime venti della divisione hai partecipato al meeting nazionale a cui ha partecipato neanche l'uno per cento di tutte noi quindi sei brava ti sei qualificata bene hai fatto un ottimo lavoro e io ti faccio un regalo per premiarti io avevo già avuto un regalo a dicembre per i miei fatturati per quello che avevo fatto ve lo avevo anche fatto vedere in un video semmai ve lo metto qui vi ricordate la famosa slitta piena di prodotti campioncini di creme di cose profumo cose carine no davvero sono rimasta strabiliata e ho detto ma dai un regalo che lei mi dà il sacchettino la shopper avon con la scatola che vi faccio vedere ecco qua questa è la shopper avon e dentro c'è questa scatola vedete? ecco allora io che sono una persona come lei ecologica ecologista sempre tendente al riciclo ho detto beh ha fatto bene visto che non è più natale anziché non so prendere qualcosa tipo la famosa slitta per fare un pacchetto ha preso questa bella scatola quasi quasi se me la lascia la riciclo anch'io e sapevo già come sfruttarmela prendo questa scatola e dico ma grazie non me l'aspettavo sono curiosa di vedere che cosa c'è e mi chiede ma perché non lo indovini che cosa c'è e allora io dico beh non lo so ci saranno dei campioncini no figuro campioncini vabbè delle creme ma no un profumo ma figurati i sieri ma no ora ragazze voi non immaginate che cosa mi ha regalato che ora mi vergogno io per lei fare una cosa del genere a una vecchia come me allora una rapa insieme a voi e ecco qui ecco qui cosa mi ha regalato fra l'altro il rosa è un colore che io adoro voi magari siete più furbe l'avete capito mi ha regalato un tablet guardate qua un tablet voi direte se è arrabbiata è certo che sono arrabbiata sono arrabbiata perché sono rimasta senza parole mi sono commossa sono commossa ancora adesso e se non mi è venuto un coccolone è un di più ragazzi io avevo dietro la panchina perché ci sono caduta addosso cioè proprio io mi sono seduta perché dietro c'era la panchina se dietro non avessi avuto una panchina sarei piombata per terra oh ragazzi ma io ho una certa l'infarto è dietro l'angolo questa qui mi regala un tablet così in mezzo alla strada a rischio infarto a rischio coccolone a rischio che cada per terra certo che sono arrabbiata Federica sei pazza ragazzi vi giuro che mi sono messa a piangere ecco quindi mi ha anche fatto fare quella che piange per strada ma guardate non guardate che non l'ho ancora aperto tutto perché aspettavo di farvelo vedere è veramente emozionante è bello è gratificante lavorare in Avon è bellissimo a me piace da morire e spero anche di riuscire a trasmettere agli altri questa mia passione questo mio amore perché vedete comunque entrare in Avon non significa solo entrare in una grande azienda una multinazionale lavorare, guadagnare, fare ma significa proprio anche avere un gruppo la responsabile di zona tutte noi siamo un gruppo e avere delle amiche non voglio dire una famiglia però insomma qualcosa che ci va molto vicino siamo tutte unite, tutte coese ci aiutiamo l'un l'altra e quando una lavora, lavora a sodo l'azienda la premia e la responsabile di zona la premia guardate per me aver partecipato al meeting nazionale sabato scorso è stata un'emozione grandissima anche lì piangevo però ero a casa mia in poltrona tranquilla con i miei gatti non rischiavo l'infarto però pur essendo una riunione ovviamente per tutte le restrizioni che ci sono in digitale Avon è riuscita a fare qualcosa per cui tutti noi ci siamo sentiti lì in quel posto non mi sono sentita a casa mia da sola ma mi sono sentita lì insieme alle altre e poi su whatsapp il nostro gruppo si mandava i messaggi ci incitavamo ci facevamo i complimenti a vicenda insomma è stata una cosa stupenda vede che mi viene da piangere sono commossa anche adesso stamattina poi questa pazza ha chiuso il cerchio ha detto vabbè se non è morta l'infarto sabato aspetta che ci penso io a farla morire allora ragazze io davvero ve l'ho detto amo questo lavoro ho fatto mia la frase del grande Steve Jobs c'è solo un modo per arrivare per lavorare bene ed è amare il proprio lavoro la frase esatta adesso mi sfugge perché ve l'ho detto sono emozionata ma me la sono scritta ve la faccio vedere ecco avete letto c'è solo un modo per fare un ottimo lavoro amare quello che fai e io amo lavorare in Avon perché è un'azienda grande un'azienda che si rivolge alle donne un'azienda che ha aiutato tante donne non solo fornendando loro la possibilità di lavorare di guadagnare e di essere indipendenti ma aiuta le donne anche con azioni di solidarietà Avon appoggia delle associazioni che si occupano sia di donne che devono affrontare o hanno affrontato l'operazione di tumore seno e Avon aiuta donne che sono vittime della violenza domestica tanto per dirvene solo due quindi è bello lavorare per questa azienda e dopo tanti anni io ho pensato visto che la mia carriera lavorativa è iniziata insegnando io segnavo nelle scuole medie insegnavo lettere poi per tutta una serie di cose ho cambiato ho insegnato in aziende poi di nuovo ho cambiato ho fatto tanti lavori diversi in tanti ambiti adesso sono in Avon sono brava e che sono brava lo dimostrano le cifre lo dimostrano i premi lo dimostra il fatto che ho partecipato ve l'ho detto a un meeting dove praticamente l'uno l'uno e mezzo per cento di tutte noi di Avon hanno partecipato quindi vuol dire che sono brava e sono detta ma perché non trasmettere tutte queste cose che ho imparato tutta la mia esperienza ma anche il mio amore verso questa azienda a delle persone anche perché lavorare in Avon è bello è piacevole è gratificante e soprattutto non costa niente cioè se una di voi volesse aprire una sua attività dovrebbe se fa una cosa semplicemente anche un negozio e si apre la partita IVA e chiede la licenza e insomma ha delle spese se vuol fare la piccola artigiana deve comunque acquistare qualcosa fosse soltanto della stoffa della lana degli oggetti per la bigiotteria deve investire soldi invece per lavorare in Avon non ci sono spese non c'è nessun investimento Avon non chiede neanche un centesimo vi fa entrare vi apre gratis un negozio online il mio famoso negozio online me l'ha aperto Avon non mi è costato assolutamente niente mi dà la possibilità di vendere in tutta Italia quindi perché non tentare perché non provare è così bello ma vedete la gioia che ho io tutte le volte che mi arriva un pacco io faccio mi sento veramente a Natale la bambina che apre tutti i regali che porta Babbo Natale questo tutto l'anno considerate che io faccio almeno un ordine alla settimana quindi 52 volte l'anno io sono felice come se fosse a Natale guadagno mi diverto tra l'altro tratto cose belle perché tratto cosmetici tratto profumi gioielli insomma prodotti per la pelle quindi tutte cose belle che fanno stare bene la gente che fanno stare allegri perché anche un profumo ti cambia la vita a volte metti il profumo e ti dà quella carica io spesso quando spacchetto vi faccio vedere un profumo da uomo che io dico mi piace da un atti se non lo so se un uomo mi passa davanti con quel profumo io lo seguo tempo fa io l'ho consigliato a un ragazzo che conosceva un ragazzo un uomo che stava attraversando un periodo un po' triste perché si era separato perché era solo quella io gli ho detto ma scusa ma prenditi questo profumo che ti vengono tutte dietro allora vuoi che ormai lui fosse nella direzione giusta forse aveva anche già adocchiato qualcuno non lo so perché non eravamo in grande confidenza però tant'è dopo un po' di giorni mi ha chiamato e mi ha detto senti ma me lo ordini quel profumo me lo prendi ho preso questo profumo ho cominciato a metterse allora ragazzi 15 giorni e si è fidanzato ma come sono felice quindi vedete a volte i profumi e sono piccole cose ma gratificano poi gratifica anche il guadagno perché Avon ha un piano guadagno molto interessante e allora io ho voglia di insegnare sto aspettando che qualcuno mi dica insegnami voglio provare vi ripeto è gratis uno fa una prova se va bene se gli piace bene non ti piace non ti trovi non hai cambiato idea ti trasferisci in Australia bene ciao amici come prima come non hai pagato niente per entrare non paghi niente per uscire quindi provate scrivetemi perché è bello perché è gratificante è bello fare squadra si fa squadra ormai anche stando distanti perché Avon è digitale è digitale al massimo non solo perché ha i cataloghi digitali ha lo shop online perché io posso fare le nomine in maniera digitale io vi posso seguire in maniera digitale quindi non ci si perde più non si perdono i contatti solo perché una sta a Genova e una magari sta che ne so a Taranto tanto per dire due opposti si sta ci si vede magari con uno zoom con una videochiamata insomma comunque è bello è bello perché alla fine la gratificazione arriva e soprattutto con Avon la cosa bella è che il lavoro ve lo impostate voi quando volete allora che volete nei giorni che volete come volete potete farlo solo digitalmente potete aprirvi tutti i canali social che volete potete fare quello che volete sempre niente di trascendentale perché Avon apprezza l'iniziativa quindi date libero sfogo alla vostra fantasia volete mettere delle foto volete fare dei disegni volete fare dei video volete fare un balletto quello che volete e più fantasia più voi stesse mettete e più vendete e più guadagnate più siete gratificate avete voglia di andare avanti quindi siccome i modi per guadagnare in Avon sono tanti non c'è solo la vendita io vi invito a scrivermi sotto vi metto il mio indirizzo mail metto anche il whatsapp così se mi volete contattare su whatsapp lo fate e dai cominciamo cominciamo insieme sono tante le persone che cercano ci sono anche altre leader bravissime tutto quanto quindi magari una si chiede ma perché proprio con te ma perché io sono all'inizio voi siete all'inizio sono all'inizio anch'io iniziamo insieme bello no cioè siamo neofite ognuno nel suo campo io sono neofita come avon leader voi siete neofite come consulenti come venditrici e quindi non lo so ci facciamo coraggio a vicenda poi io sono simpatica dai vuoi mettere a parte quando mi arrabbio con la mia responsabile di zona però ormai mi conoscete avete visto tanti video miei sono simpatica lo dico da sola ho tre meravigliosi assistenti che sono i miei gatti spiego bene perché quando vi faccio le clip sui prodotti mi dite tutti come spieghi bene e allora dai e vai che magari poi l'anno prossimo qualcuna di voi riceverà da me questo un questo no questo è mio ma un altro tablet chissà può essere non è mica detto io l'anno scorso non pensavo anche se sono otto anni in avola anche se ho sempre avuto dei bei risultati ma l'anno scorso soprattutto quando è iniziato il lockdown e tutto quanto ma mai più avrei pensato di arrivare al fatturato che ho fatto quest'anno e mai più di partecipare alla convention mai più di ricevere questo meraviglioso tablet che ancora un po' mi fa rimanere secca forse Federica ha detto ma io me lo tolgo dai piedi in maniera così tranquilla le do il tablet quella si emoziona e viene un infarto perché c'è una certa rimane lì no lo so Federica non l'ha fatto perché mi vuole tanto bene però insomma è stata una cosa veramente emozionante e voglio che la proviate anche voi allora vi aspetto scrivetemi o addirittura telefonatemi mandatemi un whatsapp perché magari a volte sono impegnata non posso rispondere ma se io vedo i vostri whatsapp vi richiamo e seguitemi anche nella mia pagina facebook dedicata a Davo ciao ragazze ciao 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 Grazie.